Noi schitani siamo particolarmente fortunati. Non è scontato poter avere l'opportunità di vivere in un luogo dove tutto quello che accade intorno appare come una meraviglia. Il comune di Ischia ha 20.000 abitanti. La nostra economia è prettamente basata sul turismo. Ischia e gli schitani sono votati all'accoglienza. C'è un'altissima socialità e noi come amministrazione ci siamo impegnati per favorire la costruzione di una comunità. Con Cassa Depositi Eppressi abbiamo avuto una interlocuzione molto costruttiva e grazie alle risorse finanziarie che abbiamo potuto avviare degli interventi sul territorio come per esempio Piazza degli Eroi. Abbiamo voluto far diventare un luogo di incontro. Con la Cassa Depositi Eppressi siamo riusciti a intervistare sul ponte del Castello Aragonese riconvertendo l'illuminazione pubblica a un sistema energetico a maggior risparmio. Una comunità unita, compatta, è una comunità che riesce a superare le sfide del futuro.